Buongiorno, siamo del TG9 Trinità. Possiamo farti una domanda? Sì. Qual è la tua comunità di riferimento? La mia squadra di rugby. E invece la tua? La mia è l'oratorio. E invece la tua? La scuola. Si può avere una fede senza comunità? No, perché ho bisogno di condividerla con gli altri. E secondo te? No, perché se no non avrai nessun punto di riferimento. Qual è il momento più bello dell'essere una comunità? L'incontro nei momenti di festa. E secondo te? Quando ci si ritrova sia nei momenti di felicità che di bisogno. E adesso Alina torna allo studio.